Allora, ciao ragazzi, bentornati. Oggi facciamo un video, sto registrando un po' così, a caso. Bentornati su Marco Verdo Liva Tutorial. Mi hanno portato questo computer che non ne vuole sapere proprio di accendersi. Non so ancora qual è il problema, io presuppongo molto banalmente sia l'alimentatore. Quindi andiamoci a dare uno sguardo, lo apriamo e vediamo un po' che cosa ci troviamo dentro, perché anche io non ho idea di cosa ci sia, ok? E facciamo delle prove. Allora, la cosa è un po' strana, perché ho tutto collegato, anche il mio wattometro è collegato, ma il computer, nisbe, morto, non ne vuole sapere proprio di partire. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa. In questo momento il wattometro comunque mi segna un assorbimento di 3,5 watt, che dovrebbe essere una cosa abbastanza normale, ma in realtà, vedete, il computer non si accende. Quindi io penso che l'alimentatore sia probabilmente andato in corto. Ok? Adesso apriamo e vediamo che cosa c'è. Allora, prima di effettuare qualsiasi operazione, ricordate di togliere la spina, ok? Proprio la spina fisicamente dalla corrente, onde evitare di, diciamo, creare delle scariche all'interno del PC. Non si lavora mai a case aperto con la corrente inserita, perché potete danneggiare qualche componente. Ora, per aprire il pannello, dobbiamo svitare queste due vitine, che queste e queste di sotto, che vi sto facendo vedere anche in un dettaglio più approfondito. Quindi adesso svito queste belle viti e il pannello si sfila. Allora, ragazzi, l'ho appena aperto e qua già c'è un puttanaio. Sicuramente qua mi sa che il computer era assemblato bene, ma qualcuno ci ha messo le mani. Perché una parte del PC mi sembra fatta bene, un'altra parte mi sembra fatta con i piedi. E adesso vi spiego perché. Allora, innanzitutto, questa è una B350, B750, un ASRock, con 8 o 16 giga di RAM. Non riesco a leggere bene. Questo sotto è un Ryzen, probabilmente un 1200. E qui abbiamo una scheda video che io ho, tra l'altro, uguale, che è una B750. Penso che sia una B750. Non so se è il modello TI oppure è una B750. Allora, innanzitutto, il cable management è fatto veramente con i piedi, ma c'è un motivo. Perché questo alimentatore qua, in realtà, ha dei cavi molto corti. Guardate quanto è corto sto cavo per i pin della scheda madre. Ed è stata fatta una cosa che non va mai fatta. Cioè, è stato usato un adattatore per la CPU. Perché probabilmente il cavo, che è questo qui, non ci arriva. Quindi è stato usato un adattatore Molex per portare i 12V alla CPU. Quindi, io adesso smonto tutto questo troiaio e vediamo, mano a mano, passo passo, che cosa dobbiamo smontare. Allora, la prima cosa che faccio è staccare il cavo, il 24 pin ATX. Eccolo qua. E lo buttiamo nel cesso. Poi andiamo di qua e scolleghiamo anche i 4 pin ok? Del processore. E poi dietro e poi dietro andiamo anche a scollegare ok? I vari cavi SATA degli hard disk. E li ributtiamo all'interno. Ora, tolto un po' questo merdaio riusciamo a recuperare tutti i cavi dell'alimentatore. Tra l'altro qua c'era collegato anche un un Molex per una ventola. Diciamo per le ventole probabilmente perché ne sono due. Ok? E adesso nel momento in cui abbiamo scollegato tutti i cavi possiamo andare a togliere l'alimentatore. e come si toglie dobbiamo ovviamente svitare le viti che ci sono qui sul retro. Quindi andiamole a svitare. e adesso possiamo vedere che puttanaio di alimentatore. Allora, guardate qua la merda che c'è dentro a sta alimentatore è pieno di polvere qua doveva esserci qualcosa che non c'è più. Un Tecno Switching Power Supply P4 da 500 Watt. Benissimo. Dove? Sulla 12 Volt aiutatemi voi perché io non riesco a capire il wattaggio sulla 12 Volt. Bah, non ne ho idea. Vabbè, è in Ampere. Chiedo aiuto a Falco 75 se ci sta guardando. Vi metterò una foto di questa etichetta. Ok? Magari chiedo a lui di farmi spiegare un po'. E cazzo di merdaio è questo. Quindi questo lo buttiamo nel cesso. Allora, fortunatamente io non mi faccio mai mancare qualcosa di utile e infatti qui nel mio studio ho un bellissimo System Power B8 da 450 Watt con 420 Watt sulla 12 Volt. È sicuramente un alimentatore 10 volte più decente anche se usato perché questo è un reperto diciamo recuperato da altre PC è un comunque un System Power B8 che alla fine ha un certificato 80 Plus come è? 80 Plus bianco quindi non lo so che cazzo è e dovrebbe andare tranquillamente per questo PC è sicuramente 10 volte più decente di quel merdaio che c'era prima. Quindi adesso andiamolo a montare facendo attenzione ok di inserire per bene tutti questi cavi all'interno. Attualmente il tasto si trova su on io lo metto su off giusto per adesso adesso mi tocca risistemare tutti i cavi però questo alimentatore sicuramente ha dei cavi un po' più lunghi quindi questo che praticamente è il cavo il 24 pin ATX per la scheda madre lo faccio passare da dietro quindi lo inserisco qui dentro ok per farlo passare da dietro e questo che sono i due cavi per la CPU anche in questo caso li faccio passare da dietro allora errore che vi faccio notare che spesso si fa quando si montano i computer allora il cavo della CPU va fatto passare qui qui sotto vedete da qua perché dietro c'è un apposito buco dietro al case che cosa succede che nella maggior parte dei casi si va a montare prima la scheda madre e andando a mettere le viti dopo quando si monta l'alimentatore non c'è più lo spazio per far passare il cavo da dietro ora in questo caso c'era il cavo era stato fatto passare davanti perché c'era una prolunga del cazzo io adesso dovrò bestemmiare per far passare questo cavo della 12 volt per la CPU dietro alla scheda madre senza rompere perché altrimenti dovrei prendere tutto il blocco e tirarlo via quindi adesso vediamo se ci riesco in qualche modo piano piano ho svitato solo due viti ok superiori per la scheda madre e io adesso con calma senza bestemmiare troppo cerco cerco di far passare i due cavi da questo lato cazzo vi vorrei far vedere ce l'ho quasi fatta stanno là sopra tutti e due ce l'ho quasi fatta e la puttana ecco fatto sono riuscito a far passare i due cavi ne basterebbe anche uno solo però li mettiamo entrambi e agganciamo u e due il cavo dell'ATX lo facciamo passare di qua ok in questo modo che ci manca più c più l'abbiamo messo abbiamo messo il cavo 24 pin ci mancano gli hard disk benissimo allora giriamo questo coso allora questo è il mio bel cavo per gli hard disk abbiamo due hard disk probabilmente su uno ci sarà il sistema operativo e cerchiamo un po' di sistemare questi cavi allora questo è un case della Sharkoon e non c'è molto da sistemare ok più di questo non si può fare tutto collegato vediamo un po' se il computer si accende allora ad accendersi si è acceso vediamo pur se compare qualcosa sul monitor speriamo che compare qualche cosa se lo faccia una figura in merda zitti è partito eccolo qua è partito olè quindi era l'alimentatore tra l'altro montato anche a cazzo sto cazzo di alimentatore qua ma che merdaio è falco per piacere mi dici che cos'è sta roba ok ragazzi quindi che cosa dirvi grazie di essere stati qui con me e di avermi fatto compagnia mentre facevo questa piccola operazione alla fine l'alimentatore era rotto e il computer è andato mi raccomando scrivetevi al canale e soprattutto andate giù in descrizione trovate tutti i link ok per seguirmi e come sempre io vi saluto e vi do appuntamento in un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.